I play-out sono quelli che rispondono il maggior successo. Adesso, attenzione, è ovvio che la maggiore offerta di giochi che si è realizzata negli ultimi anni ha consentito sicuramente di mantenere la raccolta su livelli di crescita costante con dei benefici evidenti per l'erario, però è chiaro che questi giochi che sono stati, come diceva giustamente Massimo Passamonti, questa maggiore offerta di giochi che è stato il risultato di questo tentativo ben riuscito di far uscire dall'illegalità tutta una serie di giochi e di offerte di trattenimento, ovviamente creano dei fenomeni di sostituzione che hanno delle ripercussioni ovvie su quello che è il risultato di rariale.